Bene amici, lo ammetto, sono un po' scocciato, scioccato, sarà forse colpa del premio top 10 intelligenza artificiale, sarà che volevano fare in fretta, sarà che si sarà rotta la calcolatrice a Tridico, chi lo sa, ma l'istituto ne ha combinata un'altra, adesso vi spiego per bene. Poi oggi altri pagamenti con assegno temporaneo, novità sull'assegno sempre per la competenza però di dicembre che potrebbe riservarci qualche sorpresa, esiti per il bonus 4680 euro e osservatorio reddito di emergenza. Io sono Mr. Lul, in descrizione trovate la divisione in capitoli per un accesso veloce all'argomento che vi interessa di più, adesso partiamo, prima like, iscrizione, campanone, abbonamentone, condivisione, sigla. Antipasto classico con comunicazione di servizio, allora ieri sera grande live, vi ringrazio per la partecipazione con le date delle pensioni anticipate di gennaio 2022 in anteprima e adesso anche posto e quest'oggi ci conferma il calendario scaglionato per cognomi come quello che vi ho comunicato proprio in diretta. Continuano poi senza soluzione i problemi di prelievo, reddito di cittadinanza e assegno ponte, insomma Poste non riesce a gestire queste due linee di credito e prelievo separatamente, speriamo che prima o poi insomma la risolvano. Sempre in tema di assegno temporaneo, oggi 21 per chi ha ovviamente la data e l'elaborazione ci saranno le integrazioni su RDC, si tratta di arretrati fino a novembre. Per la competenza di dicembre vedremo se IMS anticiperà come racconta qualche addetto social sui social ufficiali proprio di IMS o se andremo al classico metà gennaio. Ma adesso fermi, ascoltatemi bene, ecco non so appunto se sia colpa dell'ebbrezza da premio, da top 10, ma IMS senza dire nulla a nessuno o almeno non ai percettori ne ha combinicchiata un'altra. Come riportato infatti da pensioni oggi e da un dossier interno IMS che è stato reso noto nella serata di ieri, l'istituto invece di aumentare dell'1,7% le pensioni che avete trovato nel cedolino di gennaio ha applicato una perequazione dell'1,6%. Ok, poca roba, c'è una grande differenza in termini di soldi, ma perché è successo? Beh perché per arrivare in tempo, per fare in fretta, hanno ricalcolato i vostri assegni sulla base della perequazione registrata ad ottobre pari appunto all'1,6% e non sull'1,7% comunicato dal MEF. Solo con le pensioni di marzo verrà effettuato il conguaglio con l'erogazione evidentemente degli arretrati spettanti. Per carità il motivo è chiaro, limpido, lampante e ci sta tutto. Perché però non andare a comunicarlo e avere poi i pensionati che quando guardano il cedolino non si trovano con gli importi? Cavolicchio, mille messaggi al giorno anche per vacate, diciamocelo, e poi per le cose importanti, zero. Anche da qui si capisce l'importanza, evidentemente poca, che per l'istituto hanno i suoi principali clienti, cioè i pensionati. Ancora due cose, verificate l'esito delle domande del beneficio addizionale fino a 4.680 euro su RDC per chi apre un'attività a primi esiti proprio oggi e fatemi sapere nei commenti come è andata. E poi IMS pubblica l'osservatorio aggiornato reddito di emergenza certificando come, diciamo, quasi un milione di nuclei nel 2021 sia stato per settore almeno di una rata di REM con un importo medio circa sui 500 euro. Persone e famiglie che rientrano dunque nelle fasce di povertà. I requisiti per avere il REM sono molto stringenti. Persone e famiglie che però per la maggior parte non hanno i requisiti per accedere a RDC, dove i requisiti sono ancor più escludenti. Ora, parliamoci chiaro, senza la rivoluzione delle politiche attive e senza la riforma di RDC che in pratica non c'è stata, ecco, non prevedere, non prevedere altre rate di REM per il 2022, ma già per il 2021, per me è una scelta, almeno per me, politicamente incomprensibile. Detto questo, come sempre vi ringrazio, vi aspetto qui sotto nei commenti se qualcosa non è chiaro, se la rassegna è stata utile, o spero quantomeno interessante, non scordatevi. Like, iscrizione, campanone e abbonamentone. Un saluto, grazie di nuovo da Mr. Lul. Un saluto, grazie di nuovo da Mr. Lul.